Benvenuti su L'Utisino Unclic, io sono Loredana per la lettura di oggi, mercoledì 5 luglio, di alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato e che andremo ancora a pubblicarne nel corso della giornata. Viaggiare in treno, nuovi diritti, gli obblighi per i passeggeri, siamo a Carmagnona, provincia di Torino, per la Fiera Nazionale del Peperone, arrivata alla 74esima edizione. Persone con demenza, dicci così da fare, per questa estate sanità tagliaterri. Sostenere economicamente chi ha familiari effetti dalla sindrome di Pandas English for you, ritornano i corsi di inglese per l'estero, e il Long Lake Festival a Lugano, Ucraina Mendevev, una piccolissima nucleare ed è del tutto inverosimile. Rama premia Clinton, a Tirana, caro Bill, sei il presidente americano più albanese di tutti i tempi. Noi come risoluzione di notizie in un click eravamo all'evento. Metodo di pagamento, educazione finanziaria, quali sono quelli più utilizzati? Epico dei tassi, quasi è raggiunto. Per quanto riguarda il terzo settore c'è un assestamento del 2023 per 125 milioni utilizzati al welfare. 103 comuni sono i contributi per abbattere le barriere architettoniche. Questo è molto altro. Potete trovare nel nostro portale di informazione. Grazie per essere stati con noi e se vi va, come dico sempre, stateci ancora. Grazie, Loredana.